cartoline dal paese dei libri di antonio de benedetti con daria galateria e gabriele sabatini bonjour bonjour mes amis l'abbiamo detto in francese in onore della nostra daria galateria che è una illustrissima francesi bonjour ha risposto anche lei in francese lo sa bonjour lo sa dire abbiamo voluto farmi sentire prima della sigla una musica di enrigo perché sono stati riconosciuti a sergio enrigo dei diritti che non gli erano finora stati accordati e siccome noi siamo perché i diritti vengano riconosciuti a tutti anche agli animali non è che enrigo sia enrigo è stato un grande cantante un grande compositore di canzoni ma noi siamo anche turbati da una notizia che abbiamo letto questa mattina sulla stampa la stampa di questa mattina ha in grande una fotografia dove dice la strage degli elefanti in sanguina l'africa è una fotografia sconvolgente perché ci sono una processione di 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 portatori che ha in mano delle zanne di elefante e perché pare che queste zanne di elefante siano molto richieste in cina su un altro grande giornale un altro dei più grandi forse il più grande giornale italiano insieme a repubblica il corriere della sera c'è un'altra notizia che dice che è quasi sicuro che sia colpa nostra il caldo che cresce nel pianeta e la distruzione del pianeta allora io mi domando quest'uomo che si vanta e si conterebbe giustamente di essere fatto a immagine e somiglianza di dio non si vergogna di distruggere il pianeta che gli animali rispettano al millimetro perché gli animali non distruggono nulla si distruggono mangiano uccidono soltanto per mangiare perché la natura le ha insegnato così ma non distruggono nulla e poi noi con quale superbia pensate che gli elefanti hanno persino un culto dei morti e allora di fronte a questo di fronte al caldo delle ultime dieci stagioni che è stato il più terribile degli ultimi millequattrocento anni noi che cosa possiamo rispondere alla nostra coscienza che cosa noi non abbiamo diritto di calpestare questo pianeta non abbiamo diritto di far male agli animali non abbiamo diritto a roma sono spariti i gatti non ci sono più si dice sono nelle loro oasi ma quale il centro storico io vivo da sempre qui era gremito di gatti erano i nostri compagni e si litigavano lo spazio ma in una maniera assolutamente nobile unitopi altri animali mammiferi degni del più grande rispetto e allora ma che vogliamo fare riempire tutto di macchine riempire tutto della nostra boia riempire tutto della nostra fame di distruggere insomma poi facciamo i governi non governi di questo parleremo dopo con un ospite che aspettiamo ma adesso credo che se daria non ha nulla da aggiungere la parola da debba prendere sabatini che ha fatto un'inchiesta molto interessante sì che di fronte a questi temi impallidisce come spesso ci accade quando quando parliamo poi di di analisi del mercato in questo caso analisi del mercato editoriale perché abbiamo fatto grazie anche alla sua idea e alla anche alla alla collaborazione di di paolo di paolo all'inizio di questo progetto e abbiamo coinvolto una libreria importante di ascoli piceno la libreria rinascita e il suo titolare giorgio pignotti che ha sotto mano davvero la possibilità di di consentire una un quadro più ampio possibile del mercato librario nel 2012 giorgio pignotti è stato inventore e cura il programma macbook che è distribuito ed è utilizzato da circa 400 punti vendita in tutta italia e e quindi ci ha aiutato a capire partendo da una domanda cioè quanto i classici vendono ancora vendono nel 2012 ci ha aiutato a capire facendo un'indagine a campione quindi una statistica quanto appunto autori come gadda moravia d'annunzio calvino la morante per ora poi magari la cosa si approfondirà anche ad altri autori quanti vengono letti nel oggi ovvero sia nel 2012 perché abbiamo pensato di prendere un anno circoscritto un anno chiuso e allora il quadro non è quasi per nulla quasi per nulla rassicurante io partirei ad esempio con la morante la morante naturalmente è dall'isola di arturo che dobbiamo partire perché è il titolo che ha venduto di più con 1500 copie circa rappresenta praticamente la metà dei titoli che la morante ha venduto in tutto l'arco del del 2012 perché sono 21 mila 1500 copie del del mezzo di dell'isola di arturo diecimila cinquecento diecimila va bene e la storia diecimila cinquecento copie la storia 6.000 copie quindi della rimanente metà buona parte occupata e occupata dalla storia e gli altri dati non altri volumi non hanno insomma una grandissima diffusione a racelli e mezzogna e sorti e sortileggio sopra e sotto le mille copie la poesia la poesia dei dati preoccupanti e le raccolte alibi e il mondo salvato dei ragazzini e sono tra 500 e le 600 copie a discapito di una crescita invece piuttosto comune del dell'editoria per l'infanzia anche in questo caso la morante non non tiene il passo perché le straordinarie avventure di caterina hanno venduto meno di 300 copie in un anno e questo è un po un peccato non solo perché appunto l'editoria per ragazzi invece dovrebbe essere in crescita lo è sempre stata chissà se l'anno spassato è stato uno dei più disastrosi però per le librerie certo senz'altro però il mercato per i bambini teneva botta insomma può essere anche curioso per per i genitori dare questo questo libro ai propri figli libro scritto da una loro coetanea di 80 anni fa perché la morante era poco più che una bambina quando quando l'aveva l'aveva scritto comunque insomma il quadro vede appunto i primi due titoli chiaramente l'isola d'arturo e la storia come come gli unici due a poter godere di una certa diffusione diversamente invece quello che succede per calvino calvino è davvero un long seller calvi l'intera opera vale nel 2012 160 mila copie tutti i volumi 160 mila copie pensiamoci un attimo garantisce alla mondadori perché tutti i volumi di calvino sono stampati assegrate garantisce la mondadori praticamente un premio strega rinnovato ogni anno insomma non è una certa garanzia si parte dalla dalla trilogia dei nostri antenati e quindi visconte di mezzato barone rampante cavaliere inesistente hanno rispettivamente 16.500 copie 21.800 e circa 17.000 insomma dei numeri che cominciano a essere un po più un po più interessanti naturalmente lo vediamo anche entrando in libreria calvino in qualsiasi libreria di grande distribuzione o libreria che ha a disposizione molto spazio ci sono sempre delle pile comunque vicino vicino anche ai successi perché si morde la coda non so come spiegare si vende anche perché si vende sempre di più moravia diceva una frase molto bella niente ha successo come il successo quindi quello che ha successo ha sempre più successo sulla morante vorrei chiedere prima che tu prosegui una cosa a daria non pensi che le abbia nuociuto il fatto di essere donna anche le nuocia in parte perché c'è un pregiudizio anche in questo senso non so immaginarlo si può darsi per la verità non riesco a neanche immaginarla come donna talmente un ragazzo un adolescente le si è sempre presentate in questi termini e quindi ed è un tale genio che non per la verità non avevo riflettuto a questo aspetto poi sai le vendite è un un argomento primario per la vita dell'editoria e quindi per la vita della letteratura però insomma anche i capolavori dobbiamo spedirli nel mondo con fiducia ma che le vendite siano una una necessità anche oggi per conoscere gli autori è fondamentale nel senso alla fine della morante che cosa sopravvive sopravvivono due opere calvino invece finendo la panoramica sopravvive più o meno tutto perché tutto si assesta intorno alle 10.000 copie tutte le altre opere un po di meno se una notte d'inverno un viaggiatore e le lezioni americane 6 7 mila copie ecco quello è un mistero se di notte d'inverno un viaggiatore perché uno dei libri più noiosi che io abbia mai letto ma lì c'è secondo me affascina insomma il gioco che c'è dietro e quindi il lettore è in voglia da comprarlo poi se il lettore comincia a comprare due o tre opere di un certo di un certo autore un lettore medio naturalmente tende ad acquistarne anche un'altra poi magari si ferma però dicevo sulle vendite allora la sopravvivibilità dei titoli che cosa ci porta ci porta che alcune volte noi immaginiamoci tra 50 anni conosceremo il lettore conoscerà la morante soltanto per questi due volumi peggio ancora succede per d'annunzio d'annunzio praticamente è letto solo attraverso il piacere quindi chiediamoci cosa significa poi che cosa sopravvive sopravvive soltanto un'opera e allora non si guarderà più ad annunzio come un autore completo ma si guarderà soltanto magari appunto per quest'opera insomma è un problema annunzio in qualche modo vorrei sottoporre ai nostri ascoltatori un'idea si capisce che l'alcione non venga letto dal pubblico medio però si capisce che se uno legge la poesia italiana del novecento ci ritrova dentro continuamente l'alcione allora ci sono due modi per un artista per uno scrittore e un poeta di durare ma scusa e alcune versi sono secondo me ripetuti dal pubblico come le canzoni quasi talmente sono belli l'alcione ha raggiunto 750 copie in tutto un anno le novelle della pescara non sono circolate in più di un centinaio di esemplari quindi in realtà appunto solo il piacere con 10.000 copie segna una presenza importante il trionfo della morte è venduto con 700 copie l'innocente l'innocente è attorno alle 600 le vergini delle rocce sfiora a malapena i 450 esemplari insomma adesso era il 2012 nel 2013 si sono celebrati i 150 anni dalla nascita chissà che non ci sia stato un po' più di movimento perché poi tutti questi dati subiscono delle oscillazioni nel momento in cui cadono degli anniversari insomma è abbastanza fisiologico diciamo adesso due dati che certamente i nostri ascoltatori si aspettano ma su questa inchiesta poi parliamo a fine della trasmissione perché vorrei che si gonfiasse un po' la cosa volevo solo sapere da lei il dato di Moravia e di Gadda il totale di Moravia e di Gadda Moravia è sulle 16.000 copie tutta l'opera mentre Gadda ha un rendimento inferiore se vogliamo chiamarlo così e sono 11.000 copie nel 2012 compreso il pasticciaccio che ha quasi 4500 esemplari Gadda di fatto sembra anche visto che abbiamo potuto dare una sbirciata un po' alla distribuzione geografica di queste copie senza però entrare davvero nel merito quindi prendiamola insomma con un po' con le pinze ma siccome avevamo il sospetto che Gadda fosse più studiato che letto abbiamo pensato di vedere se fosse venduto nelle librerie di città universitari e basta e in effetti sembra un po' così è certo comunque noi diamo appuntamento ai nostri ascoltatori per così perché torneremo su questa inchiesta torneremo lungamente su questa inchiesta attraverso interventi di critici e di scrittori Daria devi darci una mano molto volentieri volevo fare una piccolissima postilla alla questione degli animali che tu giustamente ponevi quest'estate ho avuto una lettura che mi ha tenuto compagnia deliziosissima di Antoine Compagnon che è una delle più belle e intelligenti francesi un'estate con Montaigne e Montaigne racconta che è stato scoperto il nuovo mondo e dice il nuovo mondo non farà altro che accelerare l'evoluzione del vecchio mondo verso la sua decrepitudine e senza ringiovanirci perché la storia va a senso unico l'americanizzazione adesso sta diventando veramente distruzione anche del pianeta ma qui abbiamo un nuovo ospite veramente super prestigioso e graditissimo Paolo Conti che accogliamo con molto piacere grazie super prestigioso e eccessivo però mi fa piacere siamo tra amici cari con Paolo Conti abbiamo lavorato molto insieme abbiamo riempito pagine intere quando c'era l'effimero è stato l'unico momento della mia vita questo lo devo dire in cui ho fatto il giornalista l'ho fatto sul serio e mi sono divertito se no io ho sempre fatto interviste per recensioni che non è fare giornalista è fare uno strano mestiere forse un po' inutile ma con Paolo abbiamo fatto invece delle pagine che devo dire lo dico a onore di entrambi sono state persino riprese da un giornale americano una volta sì sì perché noi ponevamo un problema ai tempi e parliamo addirittura è orribile parlare del passato lo sappiamo tutti però insomma era negli anni 80-81 quando appunto si sviluppa stava consolidando l'effimero che è una contraddizione in termini ma incominciavano ad emergere elementi di polemica e di interrogativo sulle invece istituzioni culturali permanenti e devo dire la verità che fu a parte divertente da morire ma Renato Nicolini era molto interessato a questo punto di vista soprattutto perché c'era di mezzo Antonio e diventò il Corriere della Sera un po' una specie di arena in cui intervennero tutti io mi ricordo da Andreotti ad Antonello Trombatori a Argan Argan sì sì fu un momento molto molto divertente è vero è vero è vero molto bello molto bello e devo dire che oggi si sottovaluta l'effimero perché è vero che l'effimero e il 68 soprattutto che c'era dietro l'effimero ha avuto degli aspetti anche troppo corrivi di esibizionismo infantile però ha rimosso dei tabù ha portato avanti la cultura del 68 partecipano per esempio in qualche modo naturalmente trasversale non so i film di Nanni Moretti e c'è bombo ma anche le trasmissioni di Arbore cioè quelle più belle insomma sentono qualcosa che si era liberato col 68 qualcosa che poi quella sera straordinaria di Castel Porziano è stato un evento per la cultura un modernizzarsi della cultura e poi pensiamo alle cantine alle cantine teatrali a attori che poi sono scomparsi come De Berardinis che facevano sulla spiazza del Campidoglio ha fatto uno spettacolo di una modernità di un'intelligenza strepitosa e queste erano conquiste nel clima della Roma di quegli anni conquiste devo dire poi lascio parlare Paolo perché queste cose le capisce meglio di me ma no non è che le capisco è semplicemente probabilmente un fatto generazionale nel senso che io essendo il 54 ai tempi ero giovanissimo vivevo come un fatto espressivo legato appunto ai miei anni e quindi lo decodificavo istintivamente poi naturalmente è ovvio contestualizzato nel giornale contestualizzato in un giornale appunto borghese come il Corriere della Sera tentavamo di capire se tutto questo non fosse una contraddizione rispetto al fatto che c'era una crisi dell'opera non si capiva quale fosse poi il futuro dello stabile tentavamo di capire questo e infatti io mi ricordo che per paradosso proprio dal PC c'era Antonello Trombatori che ci dava ragione perché attraverso la nostra attraverso la nostra battaglia giornalistica chiamiamola così poneva la questione della galleria comunale di arte e modelle e diceva noi stiamo tutte le sere all'aperto a Massenzio ma si stanno deteriorando tutte le tele della scuola romana che fanno parte delle radici della nostra città per cui insomma si fu un momento devo dire diciamo anche un'altra cosa perché non ci vergogniamo di dirla la cultura allora era molto forte perché aveva dietro la sinistra diciamocelo perché il partito comunista aiutava insomma spalleggiava anche quelli che comunisti non erano Fellini non è mai stato comunista però lì aveva una sponda sensibile e insomma la cultura italiana finché c'è stata una sinistra forte è stata molto più forte molto più coraggiosa oggi quello che manca alla cultura oltre che c'è una migliaccheria diffusa tra gli intellettuali che io non capisco da che cosa derivi perché francamente oggi si può dire tutto magari non serve dirlo ma si può dire e sono tutti come un po' imboscati ma allora pensiamo Pasolini Pasolini faceva delle provocazioni strepitose che portavano avanti il costume italiano io potevo anche non avere simpatia per l'uomo Pasolini ma i suoi scritti erano geniali geniali e c'era chi lo difendeva politicamente chi li rendeva possibile oggi non c'è più ecco questo ci fa soffrire Daria ci vogliamo agganciare all'oggi dimmi tu se spettendo di parlare guarda non so se la politica deve occuparsi attivamente di cultura abbiamo nominato prima tu un compagnon era in odore di Accadémie Française che è questa istituzione dei cosiddetti immortali e quindi insomma una delle grandi dei grandi polmoni culturali dell'Europa e invece è stato nominato d'Arcos che è un simpatico biografo per esempio di Merimè e credo anche abbia scritto una storia della letteratura francese ma insomma fondamentalmente è stato un ministro di Sarkozy tutto questo crea sconcerto diciamo negli appassionati della cultura francese e delle istituzioni francesi certo eh sì io penso che oggi ci sia la cultura a Roma abbia un momento di difficoltà ricordo per esempio che con Paolo Conti facevamo quando mancava il direttore del teatro di Roma la persona che facesse il direttore artistico proprio ricordo che noi facemmo una campagna facendo intervenire tutte le principali autorità del teatro di sinistra e di destra perché non credo che Albertazzi fosse un uomo di sinistra beh se tu pensi che adesso è in scadenza Gabriele Labia del quale io ho un'ottima opinione perché penso che nel caos di questa città abbia garantito un cartellone di tutto rispetto però ancora non ci sono assolutamente cenni sulla sua successione non si capisce se verrà confermato se verrà sostituito lui stesso diciamo confida a persone che gli avvicino un po' di sconcerto per cui mi rendo conto che questa città strutturalmente ha un problema di fondo cioè che non riesce in modo trasversale rispetto alle maggioranze politiche anche ai tempi a tutelare come dovrebbe le proprie istituzioni culturali questo è un fatto oggettivo è un fatto culturale che non so se è un fatto insieme culturale politico per cui chi arriva in Capitoglio non fa quello che dovrebbe fare un sindaco di una grande capitale europea allora c'è il problema dell'opera non ci dimentichiamo che adesso con l'arrivo di Muti l'orchestra dell'opera è tornata a suonare nei grandi teatri tedeschi e austriaci con grande successo cosa che non è mai venuta ma anche lì non si capisce che accadrà lo stabile non ne parliamo allora evidentemente non c'è l'unico che forse ha posto questo problema è stato il primo Veltroni ma non c'è una cultura per cui i gioielli culturali della città vengono valorizzati immediatamente io capisco questa operazione dei fori che insomma lasciamo stare nel senso che non mi sembra una delle principali però mi piacerebbe sapere che domani c'è una riunione in cui si dice allora vertice dell'opera vertice dello stabile il problema del maxi il problema del macro ci sia come una specie di immagine complessiva della proposta culturale analizzata politicamente Paolo ma tu hai tirato fuori un argomento molto importante l'altro giorno sulle colonne del Corriere della Sera tu fai la rubrica di posta tutti i giorni che è seguitissima ma l'altro giorno facesti un'intervista a Costanzo importante perché in quell'intervista si diceva si dicevano delle cose sui talk show cioè Costanzo diceva basta così non si va più avanti i due nemici che si mettono d'accordo prima su come essere nemici e il conduttore che sta in mezzo come un carciofo insomma carciofo che guadagna che fa i comodi suoi e oggi c'è un articolo di Grasso che dice sì ma questi conduttori di Torso poi fanno una loro politica certo infatti ecco allora da te vorremmo sapere tutto ma ne parliamo dopo la pubblicità l'abbiamo lanciata adesso ci fermiamo un attimo per il GR e un po' di pubblicità poi un brano e rientriamo in studio cartoline dal paese dei libri rieccoci era in onore di Sergio Enrico a cui sono stati riconosciuti dopo la morte in Italia succede spesso che dopo la morte si riconosca un talento e si riconoscono i suoi diritti e allora questa trasmissione abbiamo voluto ribadire il nostro omaggio a Sergio Enrico trasmettendo delle sue canzoni molto belle devo dire peraltro ma adesso riprendiamo il discorso con Paolo Conti con cui l'avevamo lasciato a quella sua intervista a Costanzo dove si metteva l'accento sulla pericolosità di questi talk show dove ormai i conduttori i giornalisti fanno una loro politica che si sopravpone alla politica dei politici e la gente non ci capisce più niente ed è stanca e dal mese di luglio si ripetono sempre le stesse cose guarda sono talmente calati gli ascolti che cito il meraviglioso uomo di satire che è Stefano Disegni che tutte le settimane fa su su sette telescherno e leggo c'è un signore che risponde dal telefono e sente dall'altra parte buongiorno sono Sonia dell'Incentive Solutions un'occasione per lei una batteria di pentoli in acciaio inox se accetta di vedere Matrix e poi subito dopo buongiorno sono Tamara della Furbo che vince se guarda la gabbia avrà subito 3000 confezioni di bagno schiume è chiaro che diciamo il talk show è in crisi di ascolti e di contenuti semplicemente per quello che dicevi te ovvero c'è una quantità di proposta che è enormemente sovradimensionata inutilmente sovradimensionata alla sera si ripete ciò che ormai Radio News 24 Sky TV anche tutti i notiziari interporeali ci hanno già fatto sapere e ci ripropongono questa materia politica in un confronto circense di scontro continuo non ha alcun senso che un normale telespettatore sente il bisogno di arrivare alla fine della giornata invece che trovare un'analisi di quello che sta avvenendo ragionata con che ne so tabelle legate all'economia con argomenti con un confronto che non sia appunto una guerra non c'è ragione per cui uno debba passare una serata vedendo un arbitro che finge di essere neutro appunto come dicevi te e come diceva Aldo Grasso e che provoca una rappresentazione ancora più sanguinolenta della politica di quanto non lo sia poi in realtà e se uno legge Massimo Franco per dire un tuo collega bravissimo ha tutte le informazioni che deve avere e i commenti adatti ma ci sono altri io cito Massimo Franco perché è quello che leggo quotidianamente quando lo trovo sulle pagine del giornale con una lucidità che nel cielo tu fai l'esempio classico io adesso non perché sia amico di Massimo diciamo lavoro al Corriere della Sera quindi sono doppiamente non un buon testimone però le analisi di Massimo Franco sono il tipico esempio di giornalismo vero giornalismo nel senso che viene messa a disposizione del lettore una serie di dati analizzati e arrivati con una sintesi che poi ciascuno di noi elabora allora non c'è bisogno di rappresentare la politica come una arena da Colosseo del primo secolo dopo Cristo non ha nessun senso anzi si porta il paese ad essere peggiore di quello che è perché la televisione lo sappiamo tutti entra nelle case degli italiani soprattutto ormai lo sappiamo delle generazioni più anziane più grandi e non ha nessun genere poi di riflesso per esempio sulle nuove generazioni i ragazzi lo sappiamo dico delle banalità non usano più la televisione o giustamente con i nuovi strumenti di internet a tutte le nuove piattaforme si informano su questo usano molto la radio e lo dico perché è la pura verità per cui voglio dire la televisione è uno strumento che è arrivata alla fine della seconda repubblica con gli strumenti della prima repubblica e poi naturalmente perché Santoro è un grandissimo professionista ragazzi fa un prodotto che ha una grammatica televisiva perfetta e poi ci sono noi nipotini i pronipotini imbecilli che rifanno il verso secondo loro a un modello che secondo loro è quello di Santoro che è assolutamente ridicolo sai la battuta di Daiano perché lo scontro di Santoro è uno scontro intelligente quando c'è ed è governato ed è pilotato invece di quelli lo lasciano così devastante è una cosa anche umiliante per la televisione diceva Flaiano dice in Italia non serve un presidente del consiglio non serve un dittatore non serve un capo in Italia serve un capo comico così perché la nostra politica è ormai una specie di spettacolo ma da capo comici non da da grandi politici se venissero dei personaggi come Sella mettiamo dico Sella o non so ma basterebbe Casperi certamente basterebbe De Gasperi è stato un grand'uomo io non sono democristiano ma è stato un grandissimo uomo meno male ci sono stati De Gasperi e Togliatti bisogna mettergli vicino anche Togliatti però perché hanno insieme veramente riportato a galla l'Italia ma adesso la stiamo riportando in fondo per concludere questo passaggio perché immagino che dovrete parlare di letteratura di nuovo l'ultima cosa che mi viene in mente da dire proprio da come tu sai io faccio anche il cronista di recente televisive legate soprattutto a quello che avviene all'interno della RAI eccetera io suggerirei sommessamente a tutti i responsabili di network pubblici e privati di rivedere il comparto dei talk show fortunatamente per esempio la RAI ha rinunciato a dei reality scadenti e questo va dato a suo onore e per fortuna è andato così io non vedo perché la RAI non debba rivedere come servizio pubblico poi Mediaset e privata fa quello che vuole ecco di rivedere con molta attenzione editoriale lo strumento del talk show perché il servizio pubblico radio televisivo pagato in parte dal canone ha delle responsabilità etico-politiche sulle quali grandissime sono perfettamente d'accordo penso questo cioè che un talk show io per esempio ho visto l'altro giorno su RAI 3 un bellissimo esempio di pane quotidiano guidato da Concita di Gregorio dove si affrontano la mattina su RAI 3 dei problemi legati alla vita quotidiana in particolare dei ragazzi si prende un ospite si parla con lui con pacatezza senza polemizzare senza aggressioni e si dipana a un problema che appartiene a tutti quello è un modo intelligente di affrontare una questione senza che ci sia un gladiatore con un tridente cioè è una cosa offensiva per l'intelligenza io penso che la RAI dovrebbe continuare su quella linea e immaginare che il talk show possa diventare un luogo dove si scambiano come diceva Costanzo si scambiano delle idee si confrontano le idee in modo civile e non dico pagato ma civile senza arrivare a queste scene selvagge che non appengono no perché bisogna anche pensare che l'italiano medio stanco che ha problemi di soldi che non sa come pagare le bollette che non è stressato a sua volta si accende la televisione e vede delle risse cosa gli fa al cuore male dunque vi ringrazio vi saluto grazie a te grazie infinite e se tu credi proseguiamolo questo dibattito magari anche invitando Maurizio Costanzo per via telefono insomma anche la prossima mi interessa perché è questo che dobbiamo fare la letteratura abbiamo visto i dati e piuttosto negativi sono ed è inquietante perché la radio la televisione potrebbero fare molto di più litigando meno sulla politica e investendo di più sulla cultura va bene grazie Paolo grazie a te infinito grazie mille e allora mentre intanto riguadagna la sua posizione Daria Galateria in studio abbiamo con noi Francesco Lioce professore a te ecco dunque Francesco Lioce è un poeta Francesco Lioce innanzitutto è uno studioso di dossi ed è uno studioso di dossi di grande qualità ha scritto delle prefazioni ha curato delle opere ha promosso dei convegni che hanno avuto secondo me una vera utilità per parlare di quest'autore che è tra i più moderni pur essendo laggiù in un'epoca ormai così lontana perché insomma ci sono quasi due c'è tutto il secolo breve e un pezzo dell'altro quindi è molto lontano cronologicamente dossi ma è molto vicino per sensibilità per lingua per tensione a quello che siamo noi oggi quindi io l'ho conosciuto proprio come studioso di dossi e ho imparato da lui delle cose in questo senso però lui è anche un poeta è un poeta curioso io ho letto una una prefazione al suo libro che si chiama ha un titolo molto bello La nera fedeltà dell'ombra e ho letto di questo libro una prefazione di di Elio Pecora che spiega molto bene come il libro sia diviso in nove sezioni che abbia un'ascendenza ermetica e una scrittura fortemente realistica in altri punti queste sono definizioni tecniche che tornano molto utili alla lettura del libro c'è poi qualche cosa che lui secondo me non dice che io ho creduto di trovare qua e là leggendo queste poesie cioè un'ombra ma quella c'è in tutta la poesia italiana un'ombra dell'alciode un'ombra dell'alciode c'è qua e là forse e poi insomma credo che di queste sue poesie sia bello soprattutto un certo rapporto rabbioso con l'esistenza rabbioso di separazione e di lacerazione ci sono poi anche delle poesie invece molto più descrittive per esempio ce n'è una lui ha una moglie giapponese e ogni anno passa un mese credo in Giappone e di questo noi lo invidiamo perché a me ha descritto parlando dei paesaggi veramente straordinari dove c'è un monte altissimo dietro e di fronte l'oceano uno dice come mi piacerebbe andarci ma e di questo si sono state fatte anche delle poesie io vorrei allora che lui ci leggesse qualche verso da una sua poesia che sta a pagina 33 che si chiama proprio La nera fedeltà dell'ombra quindi è una poesia che richiama il titolo del libro e se lui ce ne legge qualche verso e poi ci dice ma anzitutto ringrazio Antonio per questa bellissima presentazione per avermi presentato sia come studioso di Carlo Dossi che come poeta tutto ciò che ha detto è pienamente veritiero e basi anche al di là di quella che è stata la prefazione molto sentita di Elio Pecora che mi ha pubblicato anche per primo in rivista e che poi mi ha scritto questa bella introduzione al volume per quanto riguarda quello che ha detto Antonio è verissimo cioè c'è un percorso all'interno del libro quindi ci sono queste nuove sezioni che si dipanano attraverso tre luoghi la Sicilia che è la mia terra di adozione Roma la città dove sono venuto a vivere sin dagli anni dell'università e poi ovviamente il Giappone che per i motivi indicati da Antonio simpaticamente è un'altra terra che mi ha coinvolto e che ha suggestionato e diciamo anche molto condizionato positivamente la mia scrittura perché effettivamente il Giappone si presenta sempre come un altrove fascinoso ma un altrove che io non ho visto soltanto in termini esotici ma è un altrove dove ho ritrovato molte delle componenti pagane da cui anche noi occidentali proveniamo la poesia che diceva lei Antonio si intitola Nella fedeltà dell'ombra e dà il titolo poi anche all'intero libro oltre che alla seconda sezione la leggo in ansia tra una riva e una partenza mi vengo l'incontro dal tuo sonno i rapaci impagliati sull'armadio e quelli fermi nel marmo fascista tra le mutilate statue su quei morti binari di stazione il mucchio di cenere manda fumo di plastica bruciata e di radici che verso casa gonfiano l'asfalto lei introducendo mi ha parlato di di Carlo Dossi e di come insomma sembrerebbe soltanto in apparenza un personaggio lontano però come le diceva se poi andiamo a vedere Carlo Dossi è molto vicino a noi per le sue polemiche antiparlamentariste per la sua vehemenza con cui si è scagliato contro quelli che sono i difetti i vizi le note azzurre lì è un libro è una miniera di osservazioni antiparlamentariste è lui che ci dice che Montecitorio si chiama Monte Ciborio cioè che vanno lì per mangiare è lì che ci fa vedere questa avidità della della nuova classe che fa vedere per esempio come si mangia nelle trattorie cioè ci sono i menu divisi a seconda del grado che si ha nei ministeri i buzzurri appena arrivati a Roma dal nord sono soprattutto loro nei ministeri però anche i burini anche i cafoni venuti dal sud sono lì a mangiare ecco e questo nelle note azzurre acquista una forza incredibile attraverso il linguaggio di Dossi che è una strana a volte è metalinguaggio puro a volte è linguaggio di un realismo addirittura lacerante sono delle coltellate di lingua ma questo lo dicevo anche per introdurre un altro aspetto del mio libro edito ricordo da Giulio Perrone e fra l'altro questo lo devo anche ricordare ho ottenuto la grande soddisfazione adesso in giugno di avere una menzione speciale al merito al premio Alfonso Gatto come opera prima e tornando al libro e alla storia Dossi sì ma la storia è sempre all'interno di quello che è il percorso di un poeta perché è vero che il linguaggio della poesia è un linguaggio della psiche è un linguaggio dell'anime è un linguaggio della dimensione privata però è altrettanto vero che il linguaggio privato del poeta diventa sempre un linguaggio pubblico io nella nella mia diciamo è un incipit è una sorta di epigrafe che ho scritto a questo volume composto in circa un quindicennio di lavoro e che ripercorre la mia vita dal 1998 al 2010 ho scritto questo questo libro è nato camminando va dall'imera dei cacciatori siciliani alle coste di Fukushima prima del disastro a Roma si è fermato nella stanza di Welby per riprendere fiato continua come si vede ci sono questi due nomi no? Fukushima e Welby che subito riagganciano spieghiamo rapidamente l'uno e l'altro leghiamoli poi le voglio fare una domanda allora Fukushima come lei ha detto in apertura è la prefettura dove vivono i genitori di mia moglie dove io solitamente trascorro le mie vacanze e qui è descritta fino al 2010 quindi fino a un anno prima del disastro nucleare che tutti conosciamo Welby Pier Giorgio Welby conosciamo benissimo il caso mediatico la lettera al capo dello stato di Welby e il suo impegno la sua lotta per l'eutanasia e come molti sapranno io sono il nipote che ha curato per la Castelvecchi Ocean Terminal il romanzo postumo che Pier Giorgio Welby romanzo postumo autobiografico che Pier Giorgio Welby ha lasciato e quindi ci sono all'interno del libro ci sono anche queste ricorrono queste istanze collettive queste tensioni della dimensione pubblica che vanno quindi partono dall'intimo del poeta ma vanno poi in una dimensione che abbraccia e che riguarda tutti tant'è vero che poi ci sono in una sezione in particolar modo ci sono anche dei componimenti dedicati ai funerali per i caduti in Assiria un altro componimento per la morte di Giovanni Paolo II e quindi c'è una visione anche qui noi cerchiamo sempre di legare un po' gli argomenti allora noi abbiamo aperto la nostra trasmissione parlando dei dati dei dati libreria scoraggianti abbastanza salvo che per Calvino sono piuttosto scoraggianti ma sono scoraggiantissimi per quanto riguarda la poesia non li abbiamo nemmeno dati perché sono veramente fanno venire i brividi allora lei che è anche un operatore universitario insomma e che quindi vede i ragazzi è lì che io l'ho conosciuta insomma cosa fanno i giovani gli studenti lo sa bene lo sa bene Sabatini perché è giovanissimo ma lei nell'università ci sta ancora adesso Daria poi insegna addirittura alla cattedra quindi ci piacerebbe sapere mi piacerebbe da tutti voi sapere qualcosa sul rapporto con la poesia che c'è nei giovani chi vuole cominciare Daria la mia esperienza è piuttosto negativa io cerco veramente perlomeno La Fontaine i propri grandi e Baudelaire di fare dei corsi ma non posso dire che non siano seguiti ma c'è una vera resistenza c'è una resistenza proprio sul genere sul genere poesia ma perché secondo te perché c'è una resistenza nel senso è proprio la difficoltà di dover entrare in un'analisi più profonda del testo per poterla comprendere perché comunque la lettura di un racconto per quanto si voglia analizzarla è più facile è più di primo di prima a Chito probabilmente c'è anche la grande importanza degli aspetti tematici ritmici scusi non tematici formali e ritmici in una lingua straniera quindi questo crea veramente una difficoltà enorme per i poveri studenti però di fatto c'è come una maggiore frequentazione e conoscenza del genere anche questa non completa ma insomma più diffusa del genere narrativo ecco a lei volevo chiedere una cosa io ho trovato qui come in molti libri di poesia adesso l'ombra di D'Annunzio c'è qua l'ombra dell'alcione torna sempre nella poesia italiana ecco come leggono siccome non si vende manco l'alcione è impressionante insomma è difficile da leggere l'alcione però in D'Annunzio ci sono poesie che si imparano a scuola i pastori oppure la pioggia nel pineto la sera la sera fiesolana la sera fiesolana ma ecco mi domando come si può la passeggiata che è una poesia da fine dicitore voi non mi amate Dio non vamo pure qualche dolcezza nella nostra vita da ieri che cosa che come lo leggono come non lo leggono D'Annunzio ma sa il problema sostanziale è che la poesia comunque è già un'altra lingua è di per sé un'altra lingua c'è ben poco da fare poi è la lingua della psiche è la lingua dell'anima se leggiamo l'infinito di Leopardi o Dora Marcus di Montale ci accorgiamo come sia insomma una lingua che viva su un'altra dimensione il problema forse probabilmente io ne ho parlato tante volte in pubblico con lo stesso Eio Pecora è che la scuola si è allontanata da quella che era una struttura più tradizionale ovvero si imparavano le poesie a memoria anche io fino alla metà degli anni 80 mi sono formato su questa su questa abitudine e sostanzialmente la poesia si sentiva la poesia prima di capirla bisogna sentirla e si sente non con la logica ma si sente il ritorno utilizzare la parola psiche probabilmente sono anche gli strumenti un po' errati di questa nostra società e delle nostre istituzioni a partire da quelle scolastiche a finire da quelle universitarie perché sostanzialmente noi viviamo in un'epoca in cui la finanza la fa da insomma da padrone quindi il non c'è spazio sembrerebbe non esserci spazio per la poesia anche se poi la poesia in maniera criptica e sotterranea comunque continua e poi bisognerebbe mi interrompo per dire questo che è molto importante noi avevamo delle antologie scolastiche che erano magari fatte anche un po' tutte copiate fatte con le forbici però certe poi a parte che per esempio andavo a scuola dagli scolopit la scuola media e tutto il primo canto dell'Iliade l'ho imparato a memoria lo so ancora adesso che sono un vecchietto perché ce lo facevano imparare ed era molto importante insomma imparare queste parole Vincenzo Monti molto insegna ma al di là di questo le antologie erano fatte bene adesso come so io non le ho mai più viste sono 40 anni 50 che non vedo un'antologia di quelle che si usano nelle medie ma come sono? ma io guardi questo io le posso parlare direttamente della mia esperienza le posso dire che da da dottore di ricerca all'Università Roma 3 con la quale ancora collaboro purtroppo c'è una poca attenzione nei confronti di un di un sapere che si possa strutturare e che possa formare comunque l'animo umano e quindi c'è anche lì una velocità un raffazzonare che purtroppo contraddistingue i nostri tempi e quindi non si capisce che la letteratura la filologia come la poesia vivono su altre dinamiche temporali io parlavo prima del mio libro ho detto che l'ho composto in 15 anni oggi purtroppo c'è anche una saturazione editoriale perché con l'editoria a pagamento chiunque può pubblicare chiunque può pubblicare quello che vuole e quindi gli editori non sono come gli editori Treves che erano dei grandi editori che scoprivano che scoprivano i talenti ma che quindi puntavano sul talento puntavano sulla qualità ma purtroppo sono dei capitalisti dei commercianti che pensano a ciò che può vendere e quindi non badano alla sostanza ma io vorrei sentire per chiudere una parola della nostra Daria sulle antologie anche perché è importante tu sei una critica sei una saggista traduci e quindi non vedi i testi scolastici li vedi meno insomma ma che idea hai dei repertori è pessima non sono molto ben visti nel mondo almeno nel mio mondo universitario si preferisce ovviamente avere le opere complete letture anche parziali ma se si riesce a avere in mano un testo completo di un autore gli studenti si si adattano diciamo così a un rapporto a un colloquio che possa essere più ricco più casomai disperso nel tempo cioè tu per esempio indicheresti ai tuoi studenti di leggersi Rimbaud e di leggersi Baudelaire nei Meridiani con testo a fronte non so se non i Meridiani qualche opera un'opera completa ecco una raccolta completa di un autore in edizione economica questo senz'altro e allora noi ci dobbiamo fermare qui grazie a tutti grazie a Francesco Lioce ricordo il titolo del volume La nera fedeltà dell'ombra uscito da Giulio Perrone grazie Andrea Lamura alla parte tecnica e ci sentiamo il prossimo sabato vi abbiamo trasmesso cartoline dal paese dei libri con il contributo di Bianca Maria Frabotta Gianni Borgna Raffaele Manica Salvatore Silvano Nigro Massimo Onofri appuntamento alla prossima settimana grazie a tutti